Presentato questo progetto cuneese che vi riguarda, riguarda la città di Cuneo, come si svolgerà innanzitutto e quali sono i vantaggi di cui potrà beneficiare la città e il territorio? Allora, la rete che andremo a realizzare nella città di Cuneo è una rete in tecnologia FTTH, porteremo la fibra a casa di ogni singola abitazione per rendere disponibile una connessione in bando ultralarga, vale a dire una connessione a 1 giga simmetrico, quindi sia in upload che in download. I tempi e i lavori sono già partiti, i tempi anche di questi lavori e ci saranno dei cantieri, disagi che potranno provocare anche la città? Ovviamente noi cercheremo di minimizzare il disagio per il cittadino, stiamo parlando però di un'infrastruttura importante che darà sicuramente vantaggi perché è una connessione in bando ultralarga, oggi è possibile solo con questa tecnologia. Nella nostra roadmap c'è un piano di completamento dei lavori entro l'estate del 2021 con l'esecuzione dei ripristini definitivi entro l'inverno del 2021. Noi siamo già partiti nel 2019, abbiamo siglato una convenzione con il Comune senza la quale non avremmo potuto avviare questo progetto. Abbiamo già realizzato la centrale Centro Cuneo e quindi siamo pronti per avviare le opere stradali di realizzazione della rete.